buongiorno domenica fiera cavalli verona siamo qui nel nello stand dell'esercito italiano con l'artigliera augusto michela buongiorno buongiorno a voi indovinate da quale reparto proviene l'artigliere ce lo dirà lei provengo dal secondo gruppo che è il distaccamento della sede principale che si avversari delle artiglierie a cavallo a milano abbiamo 32 cavalli che si dividono tra il centro ippico e la sezione a cavallo il centro ippico appunto si occupa dei concorsi e della movimentazione dei cavalli sotto il punto di vista agonistico mentre la sezione a cavallo si occupa della parte cerimoniale infatti si va in cerimonia con il pezzo storico che è composto dal cannone e la parte avanti che è l'avantreno l'avantreno viene trainato da tre pariglie di cavalli che si dividono in timone quella più vicina al cannone la mezza e la volata che è quella che dà la direzione a tutti quanti i cavalli dietro il cannone ci sono quattro due pariglie di cavalli che sono i serventi che si occupano nel caso di far sparare il cannone scendere due persone e poi risalire una volta che il cannone ha sparato voi avete un nome molto evocativo perché siete le voloire per tutti noi da dove deriva questo nome il termine voloire nasce con le batterie a cavallo che sono state mandate avanti da alfonso la marmora e il termine voloire ci venne attribuito dai piemontesi che appunto significa volante perché in quell'epoca le altre forze ipotrainate non erano veloci quanto le batterie a cavallo con la loro prestanza sul campo di guerra la velocità è sempre stata fondamentale in tutto nella guerra purtroppo altrettanto che nel mondo civile e quali sono i cavalli che avete ancora in scuderia per i pezzi ipotrainati per il pezzo della sezione storica i cavalli sono dei french montagne di origine svizzera mentre per il centro ippico sono dei salle italiani nati e cresciuti nell'esercito tra l'altro è un tipo di attacco molto particolare caratterizzato da una guida spettacolare anche molto molto bella oltre che molto funzionale per lo scopo preciso si ha ragione comunque il movimento dei cavalli non è come dei cavalli normali che fanno una curva ma portano le loro gambe l'una sull'altra per girare in maniera come se fossero quasi come una nave virano appunto da una parte all'altra non girano in realtà è un movimento anche abbastanza raffinato da far eseguire questi cavalli senza pensare che lo faranno anche al galoppo esattamente abbiamo fatto di recente la cerimonia della festa di cavalleria a roma dove la sezione a cavallo si è distinta con la sua esibizione con il pezzo storico tra l'altro sono cavalli montati e non guidati alle redini lunghe vero no ogni pariglia di cavalli che trenano il cannone hanno il loro artigliere sopra quindi sono una pariglia pariglia la fila di destra non montata e la fila di sinistra montata che tiene con la redina a mano il cavallo di fianco in realtà questo tipo di attacchi sono un tesoro di cultura equestre nonché di abilità in sella e agli attacchi siamo veramente felici che le voloire continuino a mantenere questa tradizione quindi vi ringraziamo attraverso lei ringraziamo tutto il reggimento che ci permette di custodire questo piccolo grande tesoro grazie ringraziamo voi grazie a tutti